Grazie per la parola Presidente e grazie naturalmente a chi ha organizzato questo incontro importante su un tema decisamente, come si capisce, problematico. Il problematico penso perché genera una serie di reazioni, il mio modo di vedere, qualche volta anche in una certa misura forse potenzialmente diversiva rispetto a un certo tipo di impostazione, non oserei dire tradizionale, ma sicuramente ormai consolidata in campo biogiuridico o bioetico. Mi riferisco a questo, io siccome avevo in mente di fare una relazione un po' più ampia, in questo momento mi rendo conto che le esigenze del tempo impongono una sintesi piuttosto rapida. Quindi il tipo di percorso che proporrei è il seguente, la domanda che mi faccio è che relazione c'è tra la persona da cui provengono i campioni biologici e la biobanca, per dirla in maniera semplificata. E mi pongo questa domanda sulla scorta di un orizzonte valoriale che va da una parte ad affermare il principio che mi sembra in qualche modo presente in diverse relazioni, più o meno esplicito, e cioè di un'affermazione di un qualche primato, comunque di una forte sottolineatura del valore della ricerca. E dall'altra invece i valori, diciamo così, tradizionali, nel senso della tradizione del biodiritto, e cioè i valori dell'individuo, della persona, del consenso informato, eccetera, eccetera. Se vogliamo la bandiera dell'autodeterminazione che è frequentemente invocata in questo settore. Se si vuole in qualche modo insistere sulla dimensione del valore della ricerca come valore prioritario in questo campo, riducendo tutta quella serie di prerogative, come per esempio la libertà di reuca del consenso, eccetera, eccetera, a me sembra che l'approdo dovrebbe essere quello di in qualche misura una declinazione del principio dell'articolo 32 della Costituzione secondo comma, pensando che anche qui potremo immaginare coloro che forniscono i campioni biologici, come non dico sottoposti ai trattamenti sanitari obbligatori, che sarebbe una cosa un po' perversa, ma in quella logica, diciamo così, ragionare per, in chiave ovviamente eversiva, eliminare tutta una serie di prerogative che siamo abituati invece a considerare in questo dibattito. È una strada, non so se sia una strada praticabile, però mi sembra che sia una strada che in diversi interventi in qualche modo mi sembra sia fatta evocare, diciamo così, se non altro in chi parla per esempio di consenso broad, di consenso amplissimo, oppure in chi ci dice che la dimensione della privacy è una dimensione completamente eccentrica rispetto al problema concreto in cui ci troviamo. Io penso che siano considerazioni tutt'altro da prendere sotto gamba, queste però sono chiaramente considerazioni che portano a una prospettiva, direi, un po' eversiva rispetto al modo di pensare che è prevalente, che è, diciamo così, del mainstream in questo ambito. Se si vuole andare per quella strada, ovviamente bisogna abbassare, ammainare la bandiera dell'autodeterminazione, immaginare i campioni biologici in una chiave abbastanza simile a quella prospettata prima da Calderaia, cioè legata in qualche misura a una dimensione di destinazione pubblica, siamo nel campo delle espropriazioni, fra virgolette, o qualcosa di simile e quindi ci muoviamo in quella direzione. L'alternativa è quella di stare su, diciamo, le strade consolidate e pensare invece nella chiave comunque, se non altro, di un bilanciamento tra la tutela pubblicistica o la tutela di interesse generale e la tutela delle priorative individuali, del privato, dell'individuo, eccetera. E in questa chiave a me sembra che bisogna cercare francamente di prendere la distanza rispetto all'idea del campione biologico come un qualche cosa equiparabile a una res, a una materia o qualcosa del genere. Mi sembra che la prospettiva giuridicamente più plausibile sia quella di stare dentro la relazione tra colui che consegna questi campioni biologici e il soggetto istituzionale che li conserva e poi eventualmente li mette a disposizione per delle attività di ricerca. Quindi una logica che, per dirla in chiave un pochino generica, è una logica di tipo contrattuale. Solo che la logica di tipo contrattuale è una logica che di per sé è spesso pensata in chiave sinallagmatica, cioè è pensata secondo l'idea che uno dà e l'altro riceve e viceversa. Mentre ancora una volta noi ci troviamo di fronte a un'idea prevalente in questo settore per cui tutto quello che ha a che fare col corpo umano è soggetto, diciamo così, ad atti di disposizione. So che questo termine non piace, però io credo che tutto sommato è difficile trovarne uno più significativo o ad atti di messa a disposizione, ma non so quale sia la differenza significativa. Comunque atti di disposizione a titolo gratuito. E il principio del titolo gratuito, il dogma del titolo gratuito è difficilmente scalfibile in questo settore. Allora, io mi ponevo un paio di domande, una delle quali è anche un po' provocatoria rispetto a questo tipo di impostazione. La prima riguarda il consenso informato, ancora una volta. Cioè, se la radice dell'atto di disposizione, l'atto con cui si mette a disposizione i campioni biologici è ancora legata all'idea del consenso informato, cioè un atto di volontà, allora io penso che questo consenso informato debba essere letto dentro questa chiave relazionale, come dicevo, contrattuale, tra persone che, colei dalla quale derivano i campioni biologici e la istituzione a cui sono consegnati, da vedersi come una sorta di rapporto cornice, un rapporto cornice dentro il quale insisteranno tutta una serie di attività e di atti di specificazione. Perché non posso accettare l'idea che si possa considerare consenso informato, in senso preciso e accettabile, un consenso ampio o estremamente largo. Consenso largo è giuridicamente un consenso nullo perché è un oggetto indeterminato e quindi non può essere plausibile giuridicamente. Accettabile allora pensare a filoni di ricerca, come è stato detto, insomma a qualche forma di specificazione più ristretta che di avvio a questo tipo di relazione, dentro la quale però secondo me è inevitabile, se la si pensa in questi termini, non pensare ad attività ulteriore di ricognizione circa la volontà della persona di mettere a disposizione questi campioni biologici per attività di ricerca che possono in qualche modo avere un'implicazione di tipo personale. E qui mi pare che i punti fondamentali del consenso non sono tanto il tipo di ricerca che un soggetto, diciamo così, qualunque, non so fino a che punto possa avere interesse a conoscere, ma sono, a parte quelli che riguardano la privacy che sono stati sottolineati a tutti quanti, mi pare che sono quelli che riguardano in qualche misura la persona nei suoi convincimenti etici, morali, nella sua coscienza. Perché è pacifico che attività di ricerca che possano impingere in questa dimensione della persona la toccano direttamente, quindi il consenso non può non essere necessario. Il consenso nei limiti in cui questo consenso può essere valido, ma nel nostro diritto civile tendenzialmente si reputa che sia valido un consenso di questo genere per atti che possono in qualche modo implicare la coscienza della persona, però questo consenso ci vuole. L'altra provocazione, la vera provocazione invece, riguarda il dogma della non onerosità, della gratuità. Questo dogma, secondo me, ha moltissimo senso quando si tratta di atti di disposizione che riguardano parti del corpo umano, ed è un'ovvietà. Mi pare che fare riferimento al modello degli atti di disposizione di parti del corpo umano sia decettivo rispetto invece al tema dei campioni biologici. Io dispongo di una parte del corpo umano per una destinazione, sia pure mediata attraverso i filtri che sappiamo, verso una persona determinata e con una funzione determinata. Metto a disposizione i campioni biologici per una serie indeterminata di operazioni, verso persone indeterminate, con funzioni assolutamente le più varie. Quindi mi pare che qui il discorso sia completamente diverso, e perciò il dogma, diciamo così, della gratuità che vale in quel campo non mi pare che sia trasferibile direttamente in quest'altro campo, così come l'articolo 5 del Codice Civile non mi sembra un articolo fatto facilmente richiamabile in questo settore. Piuttosto la domanda che mi faccio è questa. Perché è previsto che quando si fa riferimento ad atti di disposizione, di parti, diciamo, del corpo umano, o di elementi in qualche modo riferibili alla persona umana, perché si tende a pensare che questi atti di disposizione possono essere limitati soltanto agli atti a titolo gratuito. Ora, qui qualcuno sostiene, a mio parere, in maniera un po' eccessiva, che l'unica ragione sta nel fatto che si vuole tutelare un principio di uguaglianza, cioè siccome è discutibile che una persona sia disposta, per esempio, a mettere a disposizione un rene, normalmente lo sarà nella misura in cui si trova in condizioni economiche tali, per cui tutto sommato per quella persona può essere assolutamente importante farlo, ma appunto dietro un corrispettivo. Allora, per questa ragione si dice, per rafforzare i principi di uguaglianza, ecco che si prevede il limite agli atti unicamente gratuiti. Io trovo che questo non sia un argomento valido, perché questo argomento vale, allora dovrebbe valere, per tutti quanti gli atti di disposizione, dalle case ai topolini alle parti del corpo umano. In realtà è evidente che se si limita agli atti gratuiti, gli atti che si sferiscono a parte del corpo umano, lo si fa perché quelli hanno una dignità diversa da tutto il resto. E quindi il criterio fondamentale per distinguere è la dignità umana in questo campo, anche se è un criterio difficile da determinare, rimane pur sempre l'unica ragione che ci spiega questa limitazione. Ora io mi domando, ma nel caso della messa a disposizione di campioni biologici, vista in qualche modo anche la necessità che da più parti viene evocato, quantomeno l'opportunità di ridurre gli spazi di libertà di revoca del consenso, per quale motivo non si può pensare che laddove non si vadano a toccare dati molto sensibili, quindi non ci possa essere un spazio invece per una qualche forma di corrispettiva, qualche forma intendo dire corrispettiva. Faccio un esempio semplice, noi ci troviamo in una società in cui il dato è diventato un valore economico. Io stipulo un contratto con WhatsApp e credo ingenuamente di stipularlo a titolo gratuito. In realtà sappiamo benissimo, quelli che hanno un minimo di conoscenze di queste cose, che WhatsApp invece ricava da me tutta una serie di dati, che poi potrà riversare, rivendere, eccetera. Quindi il contratto è apparentemente gratuito, ma di fatto simulatamente corrispettivo, senza che però le parti siano in grado di rendersene conto. Mi chiedo se si vuole in qualche minura ridurre gli spazi di libertà di consenso, eccetera, nell'ambito della gestione del rapporto tra soggetto e biobanca, non si possa dare o non si possa immaginare in qualche modo una qualche forma di corrispettività, la quale però determinerebbe delle conseguenze interessanti. La prima, se vogliamo, dare maggiore certezza e sicurezza nell'utilizzazione dei campioni biologici. La seconda però, spesso non è molto fatta oggetto di pensiero, è la responsabilità, perché in tutti questi moduli che io ho visto, anche quello che vi ha mostrato il collega, ci sono sempre clausie di esonero della responsabilità, che sarebbero incompatibili con un contratto serio, vero e proprio. Quindi non è detto che la tutela di colui che mette a disposizione i campioni biologici passa necessariamente attraverso la gratuità. Potrebbe darsi, in qualche caso, sia ben chiaro, che invece sia più rafforzata attraverso la non gratuità. Dico questo tenendo completamente distinto il settore dei campioni biologici rispetto a quelli che sono gameti o altre ipotesi, nell'ambito delle quali non abbiamo più a che fare con il discorso del campione biologico. Perché il discorso del gamete, per certi versi, è simile alla parte del corpo umano, nel senso che c'è una funzione specifica, una persona determinata alla quale viene data. E dall'altra è dissimile dal discorso delle parti del corpo umano, perché implica, come sapete, il terzo, e quindi la riproduzione, compagnia, c'è tutta una serie di questioni che sono assolutamente centri rispetto al campione biologico in senso pure e semplice. Ultima conclusione, ultima notazione. Nell'ambito del discorso sul campione biologico c'è un terzo che compare, diciamo così, in maniera un po' anomala rispetto ai discorsi che facciamo in generale diritto civile, che è la famiglia. Perché paradossalmente, nell'ambito dei campioni biologici, mi pare che l'idea generale, la regola riconosciuta, è quella della possibilità del familiare di avere informazioni nonostante e contro il titolare del campione biologico. A me sembra una regola assolutamente da osservare, una regola che peraltro, come ho visto, viene tenuta presente anche nella modulistica, che dimostra tutto sommato, in qualche modo, il concetto di famiglia, anche attraverso la genetica, al suo riscatto. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.